Certo di Spale, non ti avevo proprio riconosciuto, Gino Coppola col codino. E ogni tanto bisogna cambiare, un bacio a te Ita e un bacio a tutti i dei spettatori da casa che seguono Cantiamo Napoli. E poi d'altronde è bellissimo. Ah, a Luca Moselonup. Luca! Ogni tanto bisogna cambiare. Giornalismo. Sì, sono proprio così, ogni tanto ho capito i lunini, ho capito i corti, i codini. E anche musicalmente. Sì, 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 cerchiamo di cambiare. E quest'oggi invece, ecco, stai spopolando qui con tante fans, con le foto. La canzone che ci presenti? Vado a cantare un brano del mio disco che è uscito da qualche settimana, la canzone intitola My Love, scritta da me Gianni Romano, che salutiamo. Tutto, ecco qua, il nuovo album di Gino Coppola firmato Love, all'interno quante canzoni? 9,9. Tra qui c'è anche Nunco Poi Annamurà, il duetto con Alessio che già precedentemente l'abbiamo promozionata. Quindi da Gino Coppola è tutto, acquistate anche il CD mi raccomando, anche tramite Cantiamo Napoli. Infatti, infatti, sì, 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 Alfonso Viscuolo vi accontenterà. Quindi salutiamo i nostri amici di Cantiamo Napoli! Con un pastello a cera disegnavi un castello sopra quel foglio bianco, coloravi ogni spazio, su quel fondo la scritta. Vorrei avermelo, mai l'ho, mai l'ho. Ma il tuo tempo è passato, ma non è mai cambiato questo amore infinito. Come è strana la vita, magari se è tutto, ci vuole rindano un vaso, ma sarà tutto sti cose. Dopo un mese è la cosa più importante da gestare, è lontana a me, nessuno mi ha mai dato a portare. Sono geloso, mi ha mai dato a portare, è lontana a me, nessuno mi ha dato a portare. Quel castello di carta diventato di pietra è la nostra coperta, quel foglio incantato dove il freddo d'inverno scelta in abbracciata. E nei nostri respiri ci sarà nuovo amore, dove quelle paure ci terranno svegliati. Sarà ancora più bello, quando l'interno va, se c'è un'immo posto di pietra. Tutto un mese è la cosa più importante da gestare, è lontana a me, nessuno mi ha dato a portare. Tutto un mese è la cosa più importante da gestare, è lontana a me, nessuno mi ha dato a portare, è lontana a me, nessuno mi ha dato a portare. Tutto un mese è la cosa più importante da gestare, è lontana a me, nessuno mi ha dato a portare.